Dichiaro eletto il professor Cifaldi. L'Abruzzo ha il suo garante dei detenuti. Il Consiglio regionale, lo scorso 23 luglio, ha infatti eletto a maggioranza qualificata il professor Gianmarco Cifaldi, sociologo e criminologo, docente dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara e profondo conoscitore della realtà carceraria abruzzese. Lo abbiamo ascoltato a pochi giorni dalla sua elezione per fornirci la sua visione della figura del garante. L'Abruzzo ha una sofferenza perché mancando questa figura del garante, questo istituto che è di lontana origine dell'ombudsman svedese, che garantisce pari dignità sulla dignità della persona. La dignità della persona che si attua attraverso l'articolo 27 della Costituzione, nel secondo terzo comma, in cui una società civile deve dare piena realizzazione alla persona, ma questo non è solo un fatto altruistico, ma anche un fatto meramente egoistico, perché se noi possiamo aiutare, e questa figura farà di tutto per aiutare queste persone detenute, cercheremo di non commettere, fargli commettere altri reati. In che modo? Supportandolo, aiutandolo, creando un link osmotico col territorio, trovando un lavoro, preparando la formazione adeguata per affrontare la vita in modo civile e legale. Ma quali sono le priorità e gli interventi innovativi del suo mandato? Vorrei affrontare nel mio mandato, in questi cinque anni mi attendo di grande lavoro, ma con grande soddisfazione cercherò di addempiere a questo regalo che mi ha dato la consigliatura regionale, di portare un elemento innovativo, l'affettività interno del carcere. In che senso? Innanzitutto curare e attenzionare tutte quelle mamme detenute che hanno figli minori di tre anni e dare una dignità all'affettività verso la propria prole. Questa è una cosa importantissima. Io ritengo che non si possa avviare un percorso di recupero civile se non si può passare per l'affettività della persona. Infine il professor Cifaldi parla della necessità di lavorare in rete e di coinvolgere tutti gli operatori del mondo penitenziario. Qui bisogna lavorare tutti insieme, costruendo una rete organica e una visione olistica del problema. Cosa molto importante, anche gli operatori all'interno del carcere. Quindi il sistema, gli attori sociali che intervengono, che sono intorno al detenuto, devono partecipare in questa azione di dignità al detenuto, di dare sostegno alla persona del detenuto. Ritengo che saranno strategici, anche farò dei incontri con il personale amministrativo, con tutta la parte trattamentale, con il direttore del calcio e non da meno il personale di sorveglianza, cosiddetti polizia penitenziaria.